Muzica Buonasera Mi hanno mandato qua perché hanno detto che se salgo poi allora voi vi accomodate Per cui faccio... Buonasera a tutti, intanto grazie a chi ha organizzato questo evento e mi ha così cortesemente invitato. Con Gianluca ci conosciamo da relativamente poco tempo e quando mi ha invitato io, come si fa in questi casi, gli ho mandato la mia presentazione e lui ha detto no no no, devi parlare senza. Aveva ragione, ancora una volta aveva ragione lui, perché poi ascoltando quello che è stato raccontato oggi, così avrei cambiato comunque le cose che volevo raccontarvi. Non siete tenuti a sapere che cos'è la fondazione Saiab, per cui vi ruvo pochi secondi per spiegarvelo. È una fondazione che è nata a Siena e si occupa dell'introduzione dell'intelligenza artificiale nel comparto tecnologico delle life science, che vuol dire farmaceutico, biomedicale, tutto quello che riguarda la cura, tutto quello che riguarda gli ospedali, tutto quello che riguarda la scienza che sta dietro a tutto questo, quindi la medicina, la biologia, eccetera. Perché sono qui? Credo di essere qui perché mi occupo molto di innovazione e l'innovazione in questo momento, come dire, è importante, forse più che in altre situazioni. È diventata importante per una parola che oggi è stata detta tante volte, su cui vorrei tornare. La parola è digitalizzazione. Allora la usiamo e pensiamo comunemente, e in maniera anche corretta, che la digitalizzazione sia quella cosa per cui facciamo con gli laboratori elettronici cose che altrimenti o non faremo, o faremo a mano. Questo è un modo di vedere la digitalizzazione, però ce n'è un altro su cui vorrei portare la vostra attenzione. A forza di digitalizzare abbiamo raccolto una massa di dati enorme. Credo che persone come voi che frequentano i convegni abbiano visto spesso quelle slide in cui si mostra una curva che cresce fortissima e che dice ecco, tutti i dati di cui disponiamo oggi sono n mila volte quelli di cui disponevamo solo pochi anni fa. Ecco, che cosa sono quei dati? Quei dati sono la spremuta della digitalizzazione che abbiamo fatto nel mondo. E cosa ci dicono quei dati? Ecco, non ci si fa abbastanza caso. Quei dati ci descrivono il mondo in una forma che non avevamo mai avuto prima. Cioè noi oggi usiamo la digitalizzazione e nell'usarla registriamo tutto quello che facciamo. Registriamo le cose che facciamo noi umani, le cose che fanno le macchine e tutte le interazioni fra le macchine e gli umani. E' una foto che l'umanità non ha mai avuto. Per quello ci interessa quella famosa curva dei dati, altrimenti potrebbero essere solo, come dire, dei numerelli messi in fila. Abbiamo una foto dell'umanità, di come funziona il pianeta, che non abbiamo mai avuto. Però è una foto molto complicata. È una foto molto complicata perché è esageratamente grande, per cui se vogliamo leggere cosa c'è scritto dentro, dobbiamo usare degli strumenti nuovi. Uno di questi strumenti nuovi si chiama intelligenza artificiale, ma è uno degli, non è l'unico. siccome abbiamo questa foto che non avevamo prima, possiamo fare una cosa che non abbiamo fatto prima. Possiamo cambiare le cose e, come si è detto dall'inizio di questa riunione, costruire il futuro. Questo è quello che è cambiato. Penso che molti di voi, se non tutti, abbiate più o meno negli occhi, e io non ho la slide, è quel riquadro tutto colorato con i 17 obiettivi ONU, cosiddetti SDGs. Quel tabellone colorato è la rappresentazione grafica di un accordo che 193 paesi hanno sottoscritto nel 2015. Non era mai successo prima. Cioè l'umanità tutta insieme ha deciso che si vada a una certa parte. Decidere che si vada a una certa parte non vuol dire esserci arrivati, ovviamente, e non vuol dire che non ci saranno problemi ad arrivarci. Però quella enorme foto dell'umanità ci spiega come funzionano le cose in maniera molto più precisa di quanto sapessimo prima. Per quello possiamo fare il cambiamento. Allora, qual è il cambiamento che si è deciso di fare? È il cambiamento che, a voi che siete molto più di me esperti in economia, potete capire in due parole. È il passaggio dalla cosiddetta economia lineare all'economia cosiddetta circolare. E allora, per non usare queste espressioni molto, come dire, tecniche, riassumiamo tutto con una parola che si chiama sostenibilità. Ci siamo? Spero di essere stato abbastanza chiaro. Ecco, questo discorso che io vi ho fatto in pochi minuti, i manager delle aziende non lo conoscono. Non lo conoscono. E la difficoltà di applicare il cambiamento sta soprattutto nei manager delle aziende. Non perché non ci arrivino, ma perché le cose non sono state spiegate forse in una maniera, spero così, chiara e lineare. I manager delle aziende sentono, un giorno che si parla di intelligenza artificiale, un giorno che si parla di PNRR, un giorno che si parla di ISG, un giorno che si parla di sostenibilità, un giorno si parla di Agenda 2030. Vado avanti? Quante parole che non sono mai connesse nello stesso discorso. Da questa mancanza di connessione, da questa mancanza di visione del quadro generale, cosa succede? Succede la paura. Non capisco che cosa sta succedendo. Il mio amministratore dei delegati dice, ma noi, intelligenza artificiale, non facciamo niente? Ingegnere, come siamo messi con la sostenibilità noi? Ma questi parametri ISG, sa, ieri ho firmato per la banca, mi dobbiamo, ma cosa sono? C'è una difficoltà enorme e questa difficoltà si riflette nella vita delle aziende. Qua dentro, per il vostro mestiere che è specifico, sapete che cos'è ISG. Sapete il valore che il mondo creditizio sta dando a queste tre lettere. E sapete che sono stati firmati da tante aziende, da tanti dirigenti, da tanti CFO, da tanti amministratori delegati, da tanti presidenti, dei fogli in cui dicevano che la loro azienda bla 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 bla, mentre non stavano facendo esattamente niente. Ma non è che non stavano facendo esattamente niente perché non avevano una buona volontà, ma perché le cose non gli erano state spiegate. O almeno non erano state spiegate dentro una cornice comune che facesse capire cosa stava succedendo. Questo è quello che mi pare si possa dire, no? Non so se è un'opinione che condividete, magari ne parliamo anche più tardi a cena. Questo è quello che sta succedendo. Ok, mettiamolo per un attimo da una parte. Cinema. Penso che tutti noi abbiamo l'esperienza di aver visto dei film in cui ci sono dei personaggi che fanno un viaggio nel passato. È un'idea molto attraente quella di andare a fare un viaggio nel passato, di vedere come stavano le cose e magari agendo sul passato cambiare il presente. Di solito i film tipo Ritorno al futuro vivono di questa storia. C'è qualcosa che accade nel presente del protagonista che lui vuole cambiare, va nel passato e lo cambia. Ecco, quella roba là non si può fare. Non si può fare un insieme di questioni legate alla fisica che non sto qui a spiegare, ma quella cosa non si può fare. Però noi guardiamo il film e ci crediamo, cioè ci piace l'idea. Invece quando ci dicono che il futuro lo facciamo adesso, no, ma no, ma non proprio io, è però il futuro. Cioè sì, vabbè, il futuro sì, vabbè, tutti insieme lo facciamo adesso, ma cioè io domani ho una call, non è che mi posso occupare del futuro fra dieci anni, no? Abbiamo cioè una percezione strana del tempo per cui quello che è impossibile ci aggrada, quello che è la costruzione del futuro a partire da oggi siamo un po' più resti. siamo un po' più resti e pensiamo che in fondo in fondo non è che dipenda proprio da noi. Sì, ci sono gli stati, ci sono i governi, quelli fanno futuro, mica io. E non funziona così. Non funziona così, funziona invece con ognuno che porta la sua briciolina. E lo sappiamo che funziona così, perché quando guardiamo quei film c'è un personaggio, uno che torna indietro e miracolosamente fa cambiare la storia del mondo, salva l'umanità o fa succedere qualcosa del genere, no? Uno. Poi quando tocca a noi non siamo mai uno abbastanza. Ha molto a che fare tutto questo con la responsabilità. Quando, terzo capitolo, terza parola, intelligenza artificiale. Ne sentite parlare, non sto qua a rispiegare mille cose che sapete già. Ma perché abbiamo questo timore, no? Io sento tanti miei colleghi che usano espressioni come dobbiamo rimettere l'uomo al centro. No? L'avrete sentita. Ci serve un nuovo umanesimo. Allora, il mondo com'è ora è il mondo che abbiamo fatto noi. Se io mi guardo in questa stanza, vedo persone di varie età, ma direi che quelli della mia generazione, io ho 57 anni, anno più, anno meno, siamo l'ultima generazione umana che ha visto il mondo senza digitale. Non so se ci avete mai pensato, no? Cioè, le prossime generazioni sempre avranno il digitale. I nostri figli, i nostri ipotesi sono già nati digitali. Noi no. Noi siamo l'ultima generazione che ha visto il mondo non digitale. Pensate quanto è cambiato. Però siamo frenati dal digitale di domani. Temiamo che faccia qualcosa che non va bene, che sia, virgolette, una tecnologia contro di noi. Non è così. Il male che possiamo farci è la rinuncia alla responsabilità. Se noi prendiamo una macchina e gli diamo la possibilità di fare delle scelte al posto nostro, siamo noi che deleghiamo la responsabilità. Non ci serve rimettere l'uomo al centro favolette di questo genere, come se fossimo stati spostati dal vento o da una truppa di castori. Siamo noi il centro dell'umanità, perché si chiama umanità. Solo che ci è molto facile delegare la responsabilità. Quando andate in qualche ufficio pubblico e qualcosa non funziona, è il computer che è lento. Ci capita spesso. Cioè, è l'ha detto la macchina. No, ma come? Ma allora il computer ha sbagliato. Ok, il computer sbaglia, può succedere. Però la questione è che il punto chiave del futuro è la nostra responsabilità. Non sono le tecnologie. È come noi le useremo. E dove possiamo sbagliare? Non nell'usarle sempre di più, ma nell'usarle male. Non è una questione di quantità, è una questione di qualità. Se noi deleghiamo a una macchina delle decisioni, stiamo sbagliando. Ci sono delle decisioni, degli automatismi che noi possiamo delegare, ma ci sono delle cose che non possiamo delegare. Il confine è più sottile di quanto vi immaginate. Perché io mi occupo molto di applicazione di intelligenza artificiale anche alla ricerca scientifica. Giusto perché ci capiamo fra di noi, anche io lavoro un pochino con i soldini, perché insomma procuro ogni anno svariate decine di milioni di euro di finanziamenti pubblici alla ricerca nelle aziende private. Quindi credo di sapere cosa sono i soldini. Non sto parlando, come dire, in una prospettiva puramente teorica. Però questo è il punto. Cioè se noi vogliamo costruire quel futuro capovolto, e poi tra un attimo vediamo perché l'abbiamo chiamato capovolto, dobbiamo avere questa coscienza. Cioè non esistono le macchine contro gli umani o cose del genere. Esistono gli umani che usano male le macchine. È sempre successo. Noi siamo di fronte a una svolta che potrebbe essere ricordarci quella dell'elettricità. Quando è arrivata l'elettricità, con quella roba si potrebbero fare tante cose. Avremmo potuto usarla anche solo per farci delle sedie elettriche. Siamo stati un po' più furbi e non l'abbiamo usata solo per quello, ma ci abbiamo fatto delle cose ben più utili. Quella è la stessa cosa. Né più né meno. Futuro capovolto. Capovolto, lo dico provocatoriamente a chi ha inventato il titolo, perché? Rispetto a cosa? A cosa ci immaginavamo? Ma c'è mai stata una generazione che non ha visto un futuro capovolto rispetto a quello che si aspettava? Il mio babbo era del 1919. Mio nonno è emigrato in America quando mio papà non era ancora nato. Mio papà non ha mai visto suo padre, mio nonno. È successo che mio figlio si è laureato ed è andato all'estero. Sono passati cent'anni e come vedete si prende sempre la strada per andare da un'altra parte. Ma la cosa su cui volevo, e finisco, attirare la vostra attenzione è, supponete che voi siete adesso, invece che nel 2023, che maneggiamo con cura ma che conosciamo bene, nel 1923. E appena finita una guerra, c'è un periodo in cui le cose stanno cambiando, c'è l'economia che tira di smisura, la crisi americana deve ancora venire. E secondo voi nel 1923, il futuro non era capovolto, quella gente non si aspettava che le cose sarebbero andate indefinitamente bene e avevano passato la prima guerra mondiale, avevano passato la spagnola e finalmente si respirava. Sedici anni dopo la seconda guerra mondiale. Ok? Le dittature europee, tutto quello che sappiamo. Allora, il futuro è sempre capovolto, ma il fatto che lo definiamo capovolto è perché noi abbiamo un'attesa che è lineare, no? Va così, andrà così. No, non funziona. Il futuro non funziona così e il futuro è veramente quello che facciamo noi. Dovremmo convincerci in un po' di più e ricordarci che tutto quello che facciamo, la parola che dobbiamo mettere davanti a tutto non è il futuro dei nostri figli, cose di questo genere che possono, anche se ci importano, sono un pochino impalpabili. La parola chiave è responsabilità. E quando si cerca di fare il proprio lavoro bene, di solito lo si fa con responsabilità. E quando si cerca di costruire il mondo futuro, ci vuole ancora più responsabilità. Il futuro non si sogna, il futuro si costruisce. E il futuro, come ha detto qualcuno di molto più bravo di me, è l'appello che quelli che non ci sono fanno a quelli che ci sono già. Noi non dobbiamo rispondere a noi stessi della nostra responsabilità, ma a quelli che verranno. E quindi quando lavoriamo e costruiamo il futuro con la call che facciamo domani mattina alle 11 o con tutte le attività in cui siamo impegnati giornalmente e voi per il vostro specifico mestiere particolarmente, questo anello, questa transizione fra il mercato della finanza e le imprese, è un ruolo veramente importante. E credo che se siete qui oggi a parlare di queste cose con l'attenzione e anche l'impegno che ho sentito da tutti i relatori che mi hanno preceduto, penso che l'abbiate capito e spero che queste parole vi possano aiutare. Grazie.